ragazzi buongiorno siamo a vicenza e non sappiamo se la fiera aprirà o meno perché c'è lo spauracchio un po del coronavirus andiamo a vedere che succede speriamo di aver buttato 400 euro fra biglietti aerei voli e quant'altro andiamo vedo un sacco di canne da pesca e la cosa mi piace c'è talmente tanta roba che non riesco più a sapere dove guardare andiamo a cercare le cosine che ci piacciono a noi se siamo allo stand della raptur è stato il primo che voglio vedere perché quello dove i prezzi diciamo sono più accessibili a tutti partiamo dal gli arbeite che sono questi qui non ci sono grandissime novità parliamo soprattutto di copie sostanzialmente il tide minov che è una cosa che mi piace prendere l'originale e poi abbiamo qualcosa più carino per i toni tuna smasher e quell'altro li faccio vedere le immagini per quello che ci serve a noi sicuramente quindi parliamo di serra e spigoli ovviamente a bella imitazione del tide anche se ovviamente preferisco l'originale e questi needle che non sembrano male per niente bisognerebbe provarli ovviamente guardiamo invece le soft bait che sono quelle che potrebbero diciamo avere un prezzo più accessibile e carine per la spigola soprattutto ci sono questi qui questi shad qui magari qualche piccolo pesciolino di questo bisogna capire meglio come montarlo ovviamente c'è anche robettina più piccola magari qualcosina la prendo poi la proviamo a casa con più tranquillità di questo bisogna capire meglio come montarlo questo su che prezzo stiamo almeno si dovrebbero girare intorno alle 10 10 euro quindi diciamo un'esca veramente onestissima quello che mi piace che è bella pesante e addirittura mi fa pensare che non solo dalla barca ma anche dalle scogliere quando vogliamo raggiungere distanze importanti abbiamo la mangianza lei questo ci potrebbe arrivare un recupero veloce con delle belle bacchettate per farlo muovere lo lasciamo anche affondare due tre secondi e ribacchettiamo. All'interno come vedete in cima alla testa c'è questo cono che quando viene cercato in maniera importante e veloce tende a fare questo getto d'acqua e quindi si nota anche meglio sotto la superficie di mangiare. Quello che mi piace poi sarà da provare è che un'esca così va bene sia dal letterato di un paio di chili che al tonno da 30 40 kg. Era una vera e propria licetta da 9 centimetri. Allora altra novità 2020 Ocean Walker è un VTD a tutti gli effetti molto molto bello anche esteticamente filo passante è un artificiale molto attirante per quanto riguarda lecce e serra se uno tende a volerlo far lavorare meglio in condizioni di mare un pochino più mosso armiamolo con una ancorina più pesante nel retro dell'artificiale e una più piccola davanti in modo tale che l'assetto è molto rapido per fare lo walk in the dog a galla entrare in azione ottimo consiglio davvero stupendo ciao ragazzi finalmente siamo a uno stand è quello della daiva dove ci sono vari mulinelli anche con il prezzo è uno dei pochi stand come vi dicevo per lo spinning in mare sicuramente andiamo a prenderci quella fascia che voi mi avete chiesto questi il legalist sicuramente un bel mulinelletto come vi ho sempre detto il daiva è sovrastimato quindi per la spigola guardate un 3000 è veramente perfetto piace molto l'impugnatura mulinelli leggerissimi 80 euro sono davvero eccezionali c'è anche il ninja leggermente diverso con una bobbina meno capiente se la usate solamente a spigole può andare bene è un mulinelli con cui non ho pescato però a sentirli sono davvero leggerissimi siamo sui 79 euro 75 euro vediamo di qua cosa abbiamo invece il daivar evros che sicuramente un'altra alternativa però per dieci euro non lo prenderei prendere più un legalist che è molto più leggero si sente la differenza e in pesca anche 50 grammi fanno veramente una differenza abissale quando siamo ora e ora a lanciare vediamo cos'altro c'è sostanzialmente poi fascia di prezzo più elevata c'è il daivar frames siamo sui 140 euro e si capisce già che è un altro mulinello sono tutti molto fluidi mi piace moltissimo la frizione sempre questa plastica che potrebbero evitarla però ragazzi se volete spendere qualcosina di più c'è il caldia che è stato il mio primo amore purtroppo ed è finito male e anche qui diciamo con 190 euro però vi portare a casa davvero davvero un gioiello piccolo compatto io ci ho pescato le spigole per anni e mi sono goduto le pescate fino all'ultimo secondo 4000 forse è un po meglio del 3000 quello che sto notando è che secondo il modello poi la misura cambia tantissimo da vedere il pre il peso la velocità di recupero però questi sicuramente per le spigole dove ci sono spigoli sono serra anche di medie piccole dimensioni vanno benissimo allora qui siamo in uno stand che non è probabilmente per la pesca in mare però vi faccio vedere come alcune le pesche che non sono le pesche a mare possono benissimo andare bene per quello che piace a noi quindi spigole serra come vedete questi pescionini qui sicuramente ci possono piacere e anche questi vermoni sono interessanti ricordate tutto quello che è nuovo tutto quello che può stimolare la prostituta del pesce secondo me va sempre provato canna appunto da 9 piedi e 6 col manico proporzionato questa è una canna on range fino ai 40 2 grammi puoi fare il discorso spigola o anche addirittura un po anche per il discorso serra mi fa vedere un attimo l'azione se me la tieni su questa è interessantissima perché la prima volta che vedo canne concepite per questo scopo quindi canne abbastanza lunghe che ci permettono se peschiamo dalla scogliera anche diciamo con un mare importante di stare lontani dalla zona pericolosa e comunque di muovere le esche sempre in maniera garbata questa è una canna che ci piace il prezzo più o meno intorno alle 119 119 euro quindi un prezzo veramente accessibilissimo una 7 piedi e due fino a 28 grammi un oncia questa è due pezzi o altri denti bella rigidina questa qui è una fast sicuramente 7 piedi e due tutte leggerissime una tre quarti più morbida per il discorso questa su che cifre siamo più o meno qui siamo sulle 200 200 euro si vede che comunque parliamo di tutt'altra qualità ovviamente la montatura questa è la fioretto mi fai vedere un attimo l'azione è questa bellina davvero è un bella goduria pescare con sta canna qui questa è un oncia giusto questa è un oncia è comunque abbastanza morbida più indicata per la spigola e per il serra sicuramente datemi una carta di credito questa c'ha la sua custodia giusto sì però in tela eccezionale come tutte le travel te la prendi e te la porti in giro questa è per quel lavoro che ti dicevo questa da mangianze quella e ci piace ce la portiamo sicuramente per pesci grossi insomma lecce già lecce serroni questa siamo sui sempre 200 euro 240 euro ma davvero una bella canna allora per quanto riguarda casa molex sicuramente abbiamo invece delle novità per quanto riguarda questi questi minov chiamiamoli casting gig minov che sono diciamo degli spalettati che ci permettono di lanciare lontano recuperarli con delle gercatone mi piacerebbe provarli stanno sì 19 euro non sono economicissimi però secondo me per il serra possono andar bene vanno bene anche per le mangianze e poi abbiamo questi sostanzialmente chiamiamoli stick bait che vanno bene per per le mangianze alla dimensione anche corretta qui un bel amo sicuramente non fa male l'armatura è passante come vedo e poi c'è tutta la serie di gig che riprende ovviamente il il giugolo è da vedere il prezzo diciamo la molex si apprezzi leggermente più elevato rispetto a quelli che abbiamo visto prima sicuramente il materiale ottimo l'ho usato non mi sono mai trovato male vedete perché bisogna venire alla fiera perché ci si incontra poi fra amici e grandi pescatori hai trovato quello che ti piaceva la fiera è bella è grande da vedere ragazzi love fish stupendo eseguitelo io veramente ti seguo ma ancora prima 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 quando poi ci siamo un po fermati poi piano piano ricominciato ricominciare stanno andando alla grande grazie però anche lui sta riprendendo a certi livelli vedete con un video già diverso con le telecamere sa parlare bene quindi è bellissimo poi mi fa piacere che insieme magari si può anche fa qualche bel video se ci riusciamo tu dove sei nella campagna abituale in puglia poi mi muovo sempre comunque qui ci vorrebbe un camion riempirlo di mulnelli della dava e portarcelo via delle robe veramente stupendo forse è il padiglione quest'anno più fornito di tutti e poi è l'unico dove ciò scritti i prezzi perché gli altri altri non si e non va bene parlare con i rappresentanti per fare un po per sapere i prezzi e allora seguite i video dell'uno e dell'altro che ovviamente vi faremo vedere la fiera ciao ragazzi ragazzi in pesca ok c'è anche la magliettina numero uno ma il cappellino il cappellino che però non sappiamo dov'è finita ci vediamo in giro grazie pure a te se siamo nel padiglione della fisius io ho visto molta pubblicità riguardo a queste esche ne ho comprate anche un paio che sono gli expedit mi sembrano e devo dire una roba sono delle esche comunque non mi sono dispiaciute ve le farò vedere in mare quale altre novità abbiamo abbiamo sicuramente delle escone da serra lecce qualche cosina da spicola e scusi sicuramente maracana di gente c'è questi bei needle qui che hanno anche diciamo la bocca concava e qualche minno che mi piacerebbe provare sinceramente ora vediamo se un pochino ne rimediamo andiamo più avanti e abbiamo qui la serie invece dedicata alla spicola vabbè il classico raglù ma quello ci interessava e ben poco e questi non mi dispiacciono sono da provare cose carine poi ovviamente c'è anche qualche totanara però la cosa più importante quanto vedo sono i top water quindi rivediamoli un attimo devo dire una cosa colorazioni davvero davvero belle bellissime mi piacciono pochi colori però abbastanza efficaci ora vediamo un po che ci dicono può fare è un gigmino per la manganza questa fonda così giusto perché c'ha il piombo sotto ragazzi mi hanno fatto vedere una canna che è stupenda penso che la proverò perché è una canna un po più lunga e per lo spinning che facciamo noi della spiaggia è perfetta costa un pochino ma vediamo un po un pochino Grazie per la visione!